Sulla Caserma Rossi ora c'è anche l'accordo attuativo che è stato firmato a Palazzo Fibioni. È conseguente al protocollo d'intesa dello scorso 6 dicembre tra il Ministero della Difesa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Proveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, Lazio, Abruzzo o Sardegna, la Regione, il Comune e l'Agenzia del Demanio. Il Comune avrà il 60% dell'area della Caserma Rossi, l'Agenzia del Demanio ne terrà il 40%. All'incontro è intervenuto anche il Sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, che prima ha visitato i militari del nono reggimento alpini dell'Aquila. L'accordo dà il via al piano di riordino, accorpamento e delocalizzazione delle funzioni militari presenti in città, anche attraverso il rilascio di alcune caserme che potranno essere utilizzate per la ricollocazione delle amministrazioni statali, oggi in locazione passiva e contemporaneamente soddisfare le esigenze del Comune. Il Comune ha già chiarito che il convitto Cotugno andrà lì, nell'area della Rossi. L'Agenzia del Demanio riacquisirà la disponibilità della Caserma Rossi, il cui 60%, come si diceva, andrà al Comune insieme all'area in via Filomusi-Guelfi, ex allorgide rosa, dove è già stato realizzato un parcheggio a servizio del Tribunale. È già nota l'intenzione dell'amministrazione, appunto, di realizzarvi il polo scolastico. In cambio, il Comune cederà al Ministero della Difesa, per il tramite dell'Agenzia del Demanio, un congruo numero di unità abitative, che saranno realizzate in via di Vincenzo dall'ente comunale. Nel restante 40% della caserma, che rimanna al Demanio, saranno riallocate alcune amministrazioni dello Stato, che attualmente sono situate in immobili di proprietà privata. Finalmente si dà piena attuazione ad un accordo interistituzionale complesso, perché questo è un accordo complesso, fatto in tempi molto rapidi. È forse uno dei primi esempi in cui, abbiati, tangibili, in cui non ci si, diciamo, condanna alla logica del com'era dovera, che è stato uno dei temi più dibattuti. La Regione Abruzzo si impegna a rilasciare gradualmente le palazzine della caserma Campomizi in uso all'azienda per il diritto allo studio. Per quanto riguarda la caserma di Amicis, l'ex distretto militare in via Zara, l'accordo prevede che il Ministero della Difesa provveda a dismettere il bene, vi troveranno spazio agli uffici del MIBAC, dell'Archivio e del Costituendo Nucleo Carabinieri tutela patrimonio storico-artistico.